Ben ritrovati a tutti amici appassionati di sport, benvenuti con il lunedì sportivo in diretta dagli studi di Antenna 2 qui a Crusone. Questa sera è una serata un po' particolare, voi direte, ma insomma dici sempre così, è vero perché tutte le volte scopriamo qualcosa di nuovo, scopriamo qualche sport nuovo, qualche persona che ha delle storie incredibili da raccontare, qualche uno che magari, anche se lo conosci da poco, ti aiuta a riflettere e dire sei fortunato o non sei fortunato, sei all'altezza di fare questo compito piuttosto che un altro. Ecco, questa sera noi parleremo di sport, uno sport un po' particolare, fra poco vi presenterò l'ospite, ma soprattutto andremo a tracciare quelli che sono anche i sentimenti di una persona, quelli che sono dentro di ognuno di noi. Sembra un discorso profondo, lo è e non lo è, perché i sentimenti poi sappiamo che ognuno li coltiva a modo suo. Però dobbiamo dire che stasera, e credo da questa prima parte, ma non nemmeno nella seconda, avremo tanto da imparare. E a proposito di seconda parte, avremo ancora un ospite soltanto nei nostri studi, dunque una serata quasi, diciamo, molto molto ristretta, ma molto molto amichevole. Avremo ospite Matteo Zanga, un ragazzo qua di Villa Donia, lui ama andare in giro a fare fotografie, è stato recentemente sul K2, mi pare, se non ricordo male, con Agostino da Polenza, e ha scattato delle foto bellissime, ce le porterà, ce le mostrerà, ma questa sera anche con lui sono curioso di capire dove arriva questa professione, fin dove arriva la professione di fotoreporter, fin dove arriva quella di appassionato di fotografie, ma soprattutto di sport, di escursioni in montagna, visto che lui principalmente fa questo. Ma questa è la storia della seconda parte. La prima parte, lo vedete qua in quadrato, la passiamo in compagnia di questo giovanotto, mi ha detto possiamo parlare di tutto, classe 1977, di nome Famauro, di cognome Bernardi, mi ha già raccontato velocissimamente la sua storia, è nato a Vertova, poi si è trasferito a Cene, adesso abita ad Albino, e io l'avevo già visto da qualche parte, però se devo essere sincero lo conosco, e l'ho conosciuto proprio in questo frangente. Ci siamo sentiti per telefono, ho letto la sua storia su un giornalino del nostro paese, e da lì è arrivato lo spunto di capire qualcosa in più di Mauro Bernardi. Allora, innanzitutto io direi, visto che non lo sapevo, dobbiamo chiedere scusa alla tua signora perché non l'abbiamo invitata, e anche la tua bimba che si chiama? Bimbo, che si chiama Pietro. Pietro. E sono a casa perché Pietro domani è alla scuola dell'infanzia, e quindi saluto il mio bimbo e mia moglie, gli mando un bacio, sono a casa perché la routine quotidiana è giusto rispettarla. Benissimo, benissimo. Ci saranno altre occasioni, mi piace comunque iniziare con questo, e soprattutto mi piace. A questo punto ti lascio parlare, Mauro, raccontare la tua storia. Voi avrete capito che Mauro da nove anni, nove anni giusti più o meno, ha subito un tragico incidente che lo ha portato ad essere sulla carrozzina, e quasi completamente insufficiente per quanto riguarda gli arti. Un dramma che magari tanti e anche tanti di voi a casa si stanno già chiedendo, ma come fa ad affrontare ad essere così solare? Io quando l'ho sentito al telefono gli ho detto, non lo conoscevo perlomeno, non me lo ricordavo, gli ho detto, ma come sei così solare? Mi sembri uno che ha appena finito una partita a tennis. E lui mi ha detto, ma forse a tennis no, però ho appena finito di sciare. E questa è la storia detta in poche parole di Mauro Bernardi, un ragazzo che ha saputo affrontare quello che la vita gli ha riservato nove anni fa. Mi diceva, prima di allora ero fortunatissimo, adesso lo sono ancora. Dai, raccontamela. Beh, come tutti i ragazzi della mia età, ho coltivato il sogno di fare l'autotrasportatore, il camionista, mi piacevano i camion, e ho cominciato dopo il servizio militare a fare l'autista. Ho fatto viaggi nazionali e internazionali, finché poi ho iniziato proprio a fare i viaggi. Facevo l'Inghilterra per un'azienda di magnetica e viaggiavo. Facevo la media di mille chilometri al giorno, quindi era una buona media, circa 22 mila al mese, e quindi potete immaginare quanti chilometri si macinavano. E avevo tutto, perché comunque avevo uno stipendio molto alto. L'ultimo stipendio che ho preso facendo l'estero, portavo a casa 3.500 euro, quindi sono veramente tanti i soldi. E non mi mancava niente, nel senso che quello che volevo non lo compravo. Poi ormai ero insieme con Claudia da qualche anno, e allora abbiamo deciso comunque di coronare il nostro sogno di sposarci, quindi abbiamo comprato casa, e allora abbiamo deciso di ridimensionare un po' i viaggi, quindi portarci vicino casa. La mia esperienza lavorativa come camionista l'ho iniziata l'azienda di Nicoli, di Albino, e così l'ho anche terminata, perché prima di sposarci, l'anno prima del matrimonio, ho deciso di tornare a lavorare per l'azienda per Nicoli Trasporti di Albino, perché facevo i viaggi nazionali, quindi la sera bene o male ero a casa, e quindi potevo stare insieme a mia moglie, e così è stato. Il problema è che, nonostante i 22.000 chilometri al mese che facevo quando facevo l'estero, a pochi chilometri da casa, ci siamo sposati il 21 maggio e il 31 agosto, a pochi chilometri da casa, all'altezza di Dalmine, un camion è entrato in autostrada, senza fari, senza frecce, io probabilmente un po' distratto, non l'ho visto, e l'ho tamponato a 90 all'ora, io col mio autoarticolato, ho tamponato un altro autoarticolato, e lì ho avuto una lesione midollare incompleta, che mi ha permesso comunque di vivere ancora un po' in piedi, perché riuscivo a deambulare con un bastone, il tutore, e facevo insomma le cose che faceva un disabile con una paraplegia incompleta, fino a che ho praticato diversi sport, mi sono avvicinato a diversi sport, il problema è che poi la situazione è peggiorata fisicamente, mi hanno dovuto rioperare nel 2012, e lì poi ho dovuto fare la scelta, o senza gamba, o seduto, e quindi ho preferito tenermi attaccati alle mie gambette, però scegliere di stare seduto. Diciamo che in questo ITER la cosa più bella che ho avuto è stato aver vicino Claudia, sicuramente mia moglie, perché mi aveva sposato sano, a posto, intero, e purtroppo poi dopo tre mesi ho avuto l'incidente, però mi è sempre stata vicina, quindi mi ha permesso di avere quella solidità, soprattutto lucidità mentale e anche emotiva, per non abbandonare tutto e non piangermi addosso. Certo, certo, allora si parlava con Mauro prima della trasmissione, si diceva, probabilmente è anche una questione di carattere, probabilmente risolare anche prima, insomma anche prima di sposarti, visto che l'hai ammesso candidamente, hai detto quanto prendevi, hai detto che quello che volevi prima dell'incidente lo facevi, lo ottenevi, lo compravi, eccetera, eccetera, perciò sei stato, sotto questo aspetto sei stato esplicativo e nel vero senso della parola, ma adesso quello che a noi, a noi diciamo che abbiamo la fortuna, perché sono in questi casi che forse ci rendiamo conto che questi ragazzi, come Mauro Bernardi, che sono tanti, poi parleremo, ci aiutano a capire che la disabilità, soprattutto quella dovuta a incidenti sul lavoro, dovuta a incidenti in macchina, incidenti magari anche banali che poi si trasformano in incidenti molto molto gravi, la disabilità è un fatto quotidiano per tutti. Noi forse sorvogliamo su questo, ma quando incontriamo una persona, come può essere Mauro, che ha ancora tanta voglia di vivere e di dare soprattutto, e mi ha detto proprio questo, quando io stasera sono entrato qui negli studi e mi ha detto, ma io guarda ho avuto questa sfortuna, ma dopo tutto mi ritengo ancora fortunato, ma queste sono parole che a noi voglio dire tutti quasi che non ha questo problema, lo sente magari anche un pochettino lontano, perché tu sai che questi sono problemi che finché non li hai, non li tocchi da vicino, li senti lontani, insomma. A noi però ci fa capire, ci fa rabbrividire, ci fa capire effettivamente quanto siamo fortunati noi, e anche nella piccola banalità di ogni giorno, e magari ci lamentiamo, è vero o no? Guarda, io quello che dico sempre, io ho anche la fortuna comunque di andare anche nelle scuole, e quando vado nelle scuole ho a che fare con ragazzi dalle elementari, piuttosto che quelle superiore, facoltà di scienze motori. Le prime proprie parole che li dico ai ragazzi, quando mi presento, li dico sempre. Io quando avevo la vostra età, dicevo sempre che tanto a me non capita, capita a qualcun altro, perché si vede questa realtà lontana, non mi ammalerò di una malattia così grave per non camminare, piuttosto che non mi succederà mica un incidente a me, poi io vado piano, poi tanto io non bevo, poi bevo poco, poi io non mi drogo, io non faccio un lavoro pericoloso, però purtroppo, e poi mentre i nostri tre spettatori si toccheranno, detto brutto, ma ci può succedere a tutti, cioè nessuno è immune a una disgrazia, purtroppo, la morte in famiglia di un familiare caro, piuttosto che la perdita del lavoro, e questo lo ribadisco molte volte anche questo ai ragazzi nelle scuole, perdere il lavoro per un papà che deve sostenere la famiglia è una grande tragedia, forse più grave della mia, perché la mia condizione è questa, è stabile, io oltretutto sono in valido del lavoro, e grazie a Linea, in questo caso a Linea di Bergamo, percepisco una rendita che mi permette di vivere dignitosamente, però la disgrazia più grossa per dire a giorno d'oggi è quella di non poter mantenere più la propria famiglia, piuttosto di perdere un caro, quindi non è tanto la disabilità motoria che è una disgrazia, è proprio il fatto del cambiamento della vita, di quello che ti capita quotidianamente, che non sei pronto ad affrontare, da solo soprattutto, e lì dico sempre anche ai ragazzi, non abbiate paura di farvi aiutare, perché è umano, è umano, cioè è normale, gli animali vivono in branco e si aiutano, e sono animali, noi abbiamo in più i sentimenti, dei sentimenti molto più alti degli animali, e dico non dobbiamo avere vergogna e paura di chiedere aiuto, dicevo proprio prima che io ho chiesto aiuto all'azienda per cui lavoravo prima di aiutarmi a sostenere i progetti che sto portando avanti per fare attività motoria e sportiva a diversi disabili che non hanno le possibilità economiche, mi piacerebbe sostenerli di tasca mia, ma c'è il rischio che non bastino tutti i soldi che prendo dalla pensione, e quindi mi piacerebbe proprio aiutare con le persone che mi stanno aiutando, quindi permettere ai disabili di fare qualcosa anche per loro, e quindi chiedere aiuto non bisogna avere vergogna. Certo, credo sia abbastanza umano, insomma, allora io credo, abbiamo impiegato 11 minuti per dipingere il personaggio, scusami se uso questo termine, per far capire a voi che personaggio abbiamo qua questa sera negli studi e soprattutto quali sono gli insegnamenti che ci può dare, perché tanti di voi si stanno chiedendo e vabbè, abbiamo capito, noi siamo per carità gli siamo vicini, eccetera, ma perché è qui questa sera? È qui perché io quando ho letto questo suo progetto veramente grandioso, soprattutto perché arriva da lui, mi sono chiesto ma che ragazzo è questo? Mi ho telefonato, mi ha detto ho 37 anni, ho ancora tanta voglia di vivere nonostante tutto questo, ma soprattutto ho tanta voglia di insegnare a questi ragazzi che lo sport è un, diciamo così, un grande motore, è una grande cosa che può aiutare a superare la disabilità ma soprattutto anche l'aspetto mentale di quello che è successo. Perché, e qui apriamo ancora una piccola parentesi, Mauro sapete che cosa ha fatto? Insomma lui si era messo in testa probabilmente sciavi anche prima, siccome ama la montagna, perché poi questo me l'ha raccontato e adesso in montagna a piedi credo che sarà difficile poterci andare, però ha detto io amo la montagna, amo la natura, sciavo prima e voglio continuare a sciare. Che cosa hai fatto? Grazie sempre all'Inail che fa dei progetti sfidanti e pilota per i disabili che hanno avuto un incidente, un infortunio sul lavoro, mi sono avvicinato al mondo dello sci, dello sci alpino, ancora da in piedi, quindi ho provato a sciare in piedi da disabile però e mi sono reso conto che non era sciare, soprattutto che non ero autonomo e questa cosa mi frustrava un po', mi rendeva un po' quel amaro, mi lasciava quel amaro in bocca nel dire ma non è sciare, è come andare in montagna e farsi portare con una carriola, certo che sono andato in montagna. Come andare in montagna con l'elicottero insomma. E quindi il piacere proprio di viverla a montagna e sentirsi libero, di muoversi come volevi non c'era. E da lì, grazie a Stefano Bellingheri che è un mio grande amico prima di tutto, poi istruttore nazionale, mi ha detto ma guarda proviamo a sciare seduti, vediamo cosa succede. E da lì ho conosciuto questo outtrezzo, questo ausilio che si chiama Mono Ski ed è una sorta di seggiolino dove tu ti siedi all'interno e c'è un ammortizzatore e uno sci posto alla parte inferiore e grazie a questo outtrezzo tu puoi sciare, ma il vantaggio è che sei autonomo. E la cosa bella è che adesso attualmente che faccio questo quasi come professione, il fatto di fare il dimostratore sulle piste da sci, mi ha fatto sorridere più volte perché ho visto persone giustamente inesperte e all'inizio le prime armi. Certo, scusami, ecco benissimo. Mandiamo delle immagini così, no no ma parla pure, poi magari le commenti tu. Perfetto, la cosa che mi faceva sorridere era proprio quello di vedere i principianti, sorridere, non ridere assolutamente, vederli un po' goffi all'inizio con questa esperienza su questi due sci e io che li passavo in parte insomma con il mio Mono Ski in equilibrio e dicevo caspita è questo essere autonomo e da lì mi sono reso conto veramente che era la mia passione e volevo fare qualcosa di più. Mi sono avvicinato, grazie sempre a Stefano Bellingheri, all'Accademia di San Marino, ho conosciuto Corrado Sussente il direttore e da lì ho incominciato un percorso formativo di quasi 900 ore di studio. Non l'ho mai studiato e mia mamma lo sa bene quando andavo a scuola perché non mi piaceva studiare, però lì mi sono messo l'impegno perché è proprio lì che ti devi tirar fuori la grinta. E lì mi sono messo a studiare, ho fatto il BLS, ho fatto il corso d'inglese, ho studiato Maslow piuttosto che le Bush, piuttosto che materie abbastanza impegnative insomma, ci parlava di psicologia piuttosto che di sinapsi e quant'altro e quindi cose che per me era arabo fino al giorno. Anche per me lo è ancora adesso, ti sto guardando all'evito perché anche questa era una parte di te che non conoscevo. Modestamente grazie all'Accademia sono riuscito a inculcarmi certi concetti all'interno della testa. Questa Accademia purtroppo non è italiana, nel senso che si trova a San Marino e da lì mi sono tirato addosso molte inemicizie purtroppo. Dico purtroppo perché il mio obiettivo è quello di fare il maestro sulle mie montagne, maestro di sci alpino per i disabili che usano l'ausilio che uso io, quindi sitting. Il problema è che non è ancora regolamentata questa formazione, non c'è ancora la cultura e quindi devo aspettare che le cose si mettono a posto. Io comunque ho completato il mio percorso formativo, ho raggiunto quello che volevo raggiungere perché comunque le competenze le ho portate a casa e quindi c'era la mia testa. Quest'inverno ho fatto una grande e bellissima esperienza a Folgaria, la scuola sci sci è di passione e ho fatto una stagione e ho fatto sciare più di 60 disabili. E questa è stata la mia soddisfazione per capire che il metodo funzionava. 60 disabili, nessuno si è fatto male e tutti adesso sciano. Questo è il motivante. Certo, avete capito, avete intuito che siamo di fronte a un ragazzo che non lo fa soltanto per se stesso, ma sicuramente anche per se stesso perché quando uno, l'ha detto lui, mi metto a studiare qualcosa che non avevo mai fatto quando lo potevo fare in maniera diversa, questo vuol dire che sai e ti sei posto degli obiettivi, li stai raggiungendo e hai voglia di raggiungerli. Quello che ci fa riflettere, poi diamo la linea alla regia per la pubblicità, è soltanto una cosa, che lui si freggia del titolo di maestro di sci a San Marino, dove la neve non si vede mai. Però qui in Italia, nel nostro Stato, la figura del maestro di sci, come appunto può essere Mauro, non c'è assolutamente. Riflettiamo anche su questo. Ne parliamo ancora fra poco, stiamo entrando nell'argomento e soprattutto nell'oggetto della nostra discussione del perché Mauro è qui. State lì. Di nuovo, di nuovo in diretta, voglio soltanto ricordare, chi si ponesse soltanto ora in visione e l'ascolto sulle frequenze di Antenna 2, che il nostro ospite questa sera è Mauro Bernardi e per questa puntata numero 4 del ventiduesimo anno. Ed è la prima volta che viene qui nei nostri studi questo ragazzo che ha raccontato con la semplicità quasi disarmante, lo posso dire, la sua vita, con quella solarità che ci aiuta a capire che nonostante il suo incidente, lui la vita vuole affrontarla ancora per quello che sa offrire. Ma è questo, è qui la domanda. Innanzitutto faccio, apro una piccola parentesi, lo dovevamo fare prima. Voi avete visto delle immagini prima, perché questo ragazzo è uno che si muove molto bene, insomma noi l'abbiamo, io l'ho diciamo conosciuto proprio in questi giorni, ma si muove molto bene. Ha partecipato a una famosa trasmissione di Italia 1, mi pare che sia, Lucignolo, e noi abbiamo mandato alcune immagini di questa trasmissione che ha voluto in ogni caso raccontare proprio la tua vita e soprattutto quello che hai fatto, perché è abbastanza recente. Sì, è di gennaio. In gennaio di quest'anno, perciò, ecco, infatti qui si vede che scia e queste sono immagini che hanno colto, che hanno colto proprio durante questa trasmissione, vedete le sue capacità, le sue capacità, ma la sua bravura. E dicevo, ci ha raccontato la sua vita, ci ha raccontato tutta la sua storia e ci ha raccontato soprattutto tutte, anche se vogliamo, le diciamo amarezze che ha dovuto, è qui perché bisogna aprire un altro capitolo, non è che sia tutto rosa e fiori, ma non soltanto per l'incidente, per le sue condizioni, anche per le amarezze che ha dovuto subire, capire, insomma. Uno che vuole diventare, visto che già sapeva sciare, maestro di sci per disabili, ha dovuto andare a San Marino a prendersi questo titolo, perché in Italia non c'è. Nonostante, tu hai fatto le domande che dovevi fare, domande che sono da più di un anno ferme a Roma, giusto? Giustissimo. Ecco, questo ti ha lasciato un po' di amaro in bocca. Mi ha lasciato un amaro in bocca, però anche da lì, credimi, ho voluto cogliere il buono. E qualcuno mi dice, ma allora sei sadico? Abbiamo fatto questa sorta di piccola guerra, ma per dare, proprio aprire il mondo, proprio dallo sci, anche agli altri disabili che volevano fare il mio stesso percorso. E ce ne sono parecchi adesso che vorrebbero fare, diventare maestri di sci, affiancando piuttosto che essere affiancati. Però la cosa che dico di cogliere il buono è il fatto che comunque ho maturato delle belle competenze, mi sono reso conto che il metodo funziona ed era quello che mi interessava di più. Quindi rendermi conto che posso insegnare e sono in grado di insegnare. Che poi mi chiami un maestro, dimostratore, pilota di carrozzina. Quello che vogliono, il mio obiettivo è quello proprio di avvicinare più disabili anche al mondo dello sci alpino, nonostante sia un contesto dove sembra che ci sia tutte le cose più ostili, dal freddo, alla discesa, al bagnato, alla forza fisica. E assicuro a tutti quei disabili che non serve tutta questa cosa, che serve solo voglia di mettersi in gioco e soprattutto di divertirsi. Perché grazie sempre a Stefano Bellingheri, diciamo, abbiamo un attimo accantonato il discorso della richiesta di Roma, è lì, andrà avanti per la sua strada, quindi quando Roma, il ministro dello sport, deciderà di riconoscere questo titolo, ringrazierò e faremo festa. Ma la mia vita continua, 37 anni, 38, 39, e non voglio lasciare niente fermo. Voglio che il mio segno, la mia firma resti indelebile. E quindi ho già iniziato a operare, nel senso che mi avvicinerò a qualche maestro con la specializzazione e io porterò le mie competenze come affiancato, come dimostratore, come supporto, per dare anche stimoli a quel disabile, fargli vedere che da seduto, da paraplegico, che incompleto che sia comunque, si può sciare. Quindi dargli quei consigli che uno seduto può dargli a un altro seduto. Quindi senza fare guerre, perché ho imparato che a fare guerre ci sono morti e feriti. E invece bisogna fare alleanze e soprattutto stringere proprio questi rapporti di collaborazione, sia che sia Roma, piuttosto che Giovanni Malagò, piuttosto che siano i maestri di sì di una stazione sistica, piuttosto che siano istruttori, piuttosto che siano direttori di accademie. Quindi stringere proprio alleanze perché il risultato finale non è il Mauro, primo maestro di sì disabile al mondo e mi freggio di una medaglia che non mi daranno neanche mai probabilmente. Ma proprio il fatto di dire, ce l'abbiamo fatta e avremo 200, 600, 1000 disabili che scieranno, ma soprattutto che praticheranno un'attività sportiva che li metterà in relazione con gli altri disabili, ma soprattutto con le altre persone normodotate. Quindi non un'integrazione, ma un'inclusione nel mondo sportivo. Ci stai dando talmente tante di quelle mazzate che uno qua dice, ma noi cosa facciamo, noi che cosa proponiamo per questi ragazzi che hanno questa sfortuna, se questi ragazzi sono capaci di muoversi e soprattutto anche da politico, perché stai facendo un discorso da uomo già navigato, insomma probabilmente, perché quando hai detto è inutile fare delle guerre perché ci sono morti e feriti, cerchiamo delle alleanze che sono le cose migliori, questi sono gli insegnamenti che dovremmo recepire tutti e invece spesso e sovente magari facciamo delle guerre che poi risultano inutili per tutti se non causare solo dolore e su questo dobbiamo riflettere. Perché? E poi naturalmente voi vi state chiedendo, benissimo, lui ha imparato a sciare, già lo sapeva fare, eccetera. Però il tuo progetto non è soltanto così ristretto, il tuo è un progetto diciamo piuttosto aperto a largo termine, non soltanto poi sai giocare a tennis, sai fare anche altre cose nell'ambito dello sport, eccetera. A tennis mi ricordavi Verzeroli che è stato ospite nella nostra trasmissione almeno un paio di volte, lui che tra l'altro se la cavava bene perché era davvero bravo, io mi ho portato dei video e me lo ricordo come faceva a muoversi sulla carrozzina, era davvero incredibile. Ecco, cioè pertanto il tuo progetto non è soltanto fossilizzarsi in questo, in attesa che arrivi questa medaglia, diciamo questo titolo di maestro di sci, ma è quello di aiutare in generale i disabili a fare sport. Perché? Che concetto hai dello sport e soprattutto qual è? Cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Quanto ti ha aiutato a te? Già lo praticavi, però poi praticarlo da normodotato è una cosa, praticarlo in carrozzina è un'altra. Quanto ti ha aiutato lo sport a superare i traumi del tuo incidente? Allora, a livello diciamo, soprattutto a livello fisico, perché a livello emotivo, ripeto, c'era mia moglie, c'è stata la fede, c'è stata la famiglia, gli amici comunque, quindi la parte emotiva è stata sostenuta da questa cerchia di amici, di parenti e di familiari. Ma soprattutto la parte fisica mi sono reso conto che il fisico può fare ancora tanto, nonostante offeso, nonostante hai perso delle abilità, non usi le gambe piuttosto che un braccio, piuttosto che una mano, piuttosto che un piede, piuttosto che la vista. E mi sono reso conto che lo sport proprio ti faceva star bene, infatti sposo proprio l'idea che lo sport è vita, ma sotto tutte le sue forme. Io mi sono avvicinato al tennis come primo sport, non ero un gran giocatore, mi piace ancora giocare, ma non ero molto forte. Però mi sono reso conto che si puntava sempre all'eccellenza, a diventare dei campioni. E Marco Verzeroli mi ha allenato per qualche anno, è stato bello, ma mi sono reso conto che si richiudeva proprio in quelli, solo in quelli bravi o in quelli che avevano speranza di diventare qualcuno. Io nel progetto, in questo progetto veramente pilota, che voglio portare avanti, è quello di dare la possibilità a tutti di praticare lo sport, perché è la casalinga che finisce di fare i mestieri, se ha la possibilità e riesce e va a correre, fa uno sport, non va a fare la maratona come ha fatto la nostra Eliana Patelli ieri, che ha oltretutto vinto, ma va a correre per il paese portando un paio di pantaloncini in cotone, una maglietta in cotone e pratica sport senza andare a cercare di fare una maratona, perché fare sport fa bene, ti fa star bene, oltre che la parte proprio fisica, chimica, ma proprio ti fa star bene perché stai a contatto con l'aria aperta, incontri la gente, cerchi un po' il limite del tuo fisico. Per me, come disabile, mi ha aiutato tantissimo lo sport, mi ha dato proprio voglia di trovare un po' il limite, senza però andare a puntare a fare olimpiadi, gare internazionali, gare mondiali, non mi interessava, mi interessava praticare sport. E ho detto, devo trasmettere questa voglia di praticare lo sport e devo dare la possibilità anche agli altri disabili di provare. Lo faccio nelle scuole perché porto l'ausilio che l'INAI mi fornisce per far praticare a me da solo l'attività sportiva, ma lo metto a disposizione anche ai bambini, ai ragazzi normodotati per capire cosa vuol dire avere diverse abilità. E soprattutto ho lì l'attrezzatura perché è quella che uso io per far provare anche altri disabili. Cioè vorrei che il disabile che sta chiuso in casa dice, ma guarda, vado a provare anch'io com'è andare con l'handbike, perché un'handbike ha dei costi molto alti, vai sui 3.000, 4.000 euro, quindi sono soldi importanti per praticare uno sport, per provarlo, non puoi spendere. Non puoi sempre accedere a questo. Economicamente. E la stessa cosa con lo sci, un monosci costa 3.000 euro, monosci base. Uno se deve andare a provare e poi non gli piace, deve spendere 3.000 euro prima di capire che non gli piace. E quindi allora dare la possibilità, quindi avendo tutta questa attrezzatura, io vorrei mettere a disposizione dei miei, tra virgolette, allievi. Quindi questa idea mi è nata, l'ho presentata al comune, il comune di Albino, e mi ha aperto le porte. Certo, allora ti interrompo, scusa, anche perché è giusto dare il riconoscimento anche a coloro che ti danno questa opportunità, perché qui il discorso è molto serio, ampio. Qui si parla di integrazione sociale, qui si parla anche di puro divertimento, perché alla fin fine questi ragazzi hanno bisogno soprattutto di divertirsi, hanno bisogno di ritrovare la loro vita, quella di prima, ritrovarla di nuovo, pur con la disabilità dove appunto sono stati colpiti. Allora cosa ha detto? Lui aveva presentato già questo progetto, probabilmente magari non tutti sono sempre lì disponibili a recepirlo, e invece dopo poco tempo che si è insediata questa amministrazione di Fabio Terzi in comune, l'assessore dello sport ti ha chiamato e cosa ti ha detto? Mi ha detto, Mauro, ma che bella idea, dobbiamo fare qualcosa. Grazie comunque anche al vice sindaco, esposito Daniele, mi ha detto, ma guarda, facciamo qualcosa, cosa vuoi fare, che idea avresti tu? Allora lì abbiamo sviluppato il progetto insieme, perché comunque la mia idea di far praticare sport c'è, però non potevo farla praticare nel giardino di casa mia, piuttosto che sulle strade. Ci sono anche, comunque ci servivano le strutture, e per le strutture ben sappiamo che ci sono anche dei costi comunque di gestione, dalla luce piuttosto che all'acqua dalle docce, piuttosto che al noleggio della palestra stessa. E l'assessore mi disse, guarda Mauro, non c'è nessun problema, allora tieni presente che le palestre serviranno per fare queste attività, tu che fasce di orario ti servono? Abbiamo messo, per scritto, qualche orario che poteva andare bene, ci siamo confrontati con i vari assessori, da lì abbiamo identificato tre giornate, o meglio, tre fasce di orari in tre giorni, dove sarà il martedì, il giovedì e il venerdì, in totale mi sembra che siano circa quattro ore, quattro ore e mezza, dove i disabili potranno contattarmi, perché dovrò organizzarmi per capire se ho bisogno di dieci volontari, o posso portare solo un handbike per capirci, però comunque mi contatteranno e verranno a provare questi sport, quindi proveranno l'handbike, la carrozzina da tennis, la carrozzina manuale, anche fare presistica, ma è arrivare anche poi per quei disabili cognitivi, quei disabili sensoriali che non vedono, i disabili intellettivi, piuttosto che i disabili relazionali, vengano accompagnati, chi necessita comunque di accompagnamento, e praticare una sorta di sport gioco, o un gioco sport, dove si giocherà a pallone, si giocherà a pallavolo seduti per terra, insomma ci saranno delle attività sportive, non saranno agonistiche, ma saranno ludiche, ma l'obiettivo è quello proprio di far, tirar fuori un po' tutto quello che hanno da poter dare a tutti i disabili, e soprattutto dare la possibilità di essere all'interno di un progetto che li fa sentire protagonisti, e quindi in questo modo loro dicono, caspita, oggi ho giocato a pallone, oggi ho fatto pallavolo, oggi ho fatto presistica, perché ci sono due tipologie di disabilità, c'è la disabilità che tocca la parte intellettiva, cognitiva e relazionale, che è un ambiente, diciamo che è vastissima, e quindi è difficile creare le categorie, e quindi bisogna capire la potenzialità soggettiva, quindi ogni singola persona, e invece la disabilità motoria o sensoriale comunque è divisa in classi, quindi si sa che se una persona ne manca una gamba, piuttosto che un piede, piuttosto che è paraplegico, piuttosto che è tetraplegico, è abbastanza identificata, e quindi ci sono già dei limiti e degli obiettivi, ma col disabile cognitivo, intellettivo e relazionale, è tutta una scoperta, perché neanche gli stessi medici sanno il limite di quella disabilità, e lì bisognerebbe proprio farla tirare fuori, questo limite. A proposito di questo, poi abbiamo ancora una buona manciata di minuti per parlarne, perché sentirti parlare anche di tutto questo mondo, un po' particolare, e per noi, dico per noi, anche sconosciuto, perché te l'ho detto, finché non la viviamo da vicino, la sentiamo, magari condividiamo il dolore, magari anche in maniera sbagliata, perché a certe volte condividere il dolore vuol dire prevaricare, andare magari in quel senso di, scusami il termine, pietà, compassione, che non fa bene a nessuno, perché questo non fa bene a nessuno, scusami se l'ho detto, ma ogni tanto bisogna affrontare la verità, e allora mi viene da pensare, ma tu probabilmente sei, hai affrontato questo tema, questo argomento, dopo che ti è successo, prima non conoscevi questo mondo, assolutamente, perciò l'hai affrontato e hai la consapevolezza che si può fare qualcosa, anche per quello che magari, rispetto al tuo carattere vivace, espansivo, solare, magari è piuttosto chiuso, magari si chiude in se stesso e non riesci a dire, ma io vivo la mia, il mio handicap, lo vivo seduto in casa, riesco a malapena a fare, a spostarmi con la carrozzina per andare, caso io do al giornalaio a prendere il giornale, tu sei consapevole che, anche da chi ha un carattere un po' diverso rispetto al tuo, si può tirar fuori qualcosa? Io sono più che consapevole, ne sono certo, perché, dico sempre, e prima o poi ci arriviamo tutti a questa consapevolezza e questa certezza, che la vita è una, ne abbiamo solo una, a prescindere di che siamo ricchi, poveri, belli, brutti, disabili o normodotati, abili o non abili, maschi o femmine che siamo, ma la vita è una, e quindi arriviamo a questa consapevolezza e questa certezza nel dire, oh vabbè, ci sono anch'io qua, ragazzi, alzi la mano e dici, ci sono anch'io, esisto anch'io, voglio fare qualcosa anch'io, e questa cosa diventa un po' un riscatto, forse a denti stretti, e all'inizio forse l'ho vissuta così, ma adesso diventa come per dire, oh c'è da fare, si può fare, cioè molte volte parlo con situazioni veramente di disagio, di disabili che si rinchiudono, si chiudono in se stessi, la stessa famiglia, no no, le disabili, il mess chat, perché proprio si trovano in questa condizione, dicono, no, ma non può fare niente, sicuramente sono consapevole che io non andrò mai a camminare in montagna, questo mi è precluso, ma probabilmente troverò la strategia per far qualcosa con la bicicletta, e riuscire ad andare ancora al curo, piuttosto che sarà difficile, ma al curo magari potrebbe essere fattibile, ma per dire, quando a me mi hanno presentato il progetto solo di andare fino a Palermo in handbike, io non sono un atleta, vedete fisicamente, non sono un omone, non sono Giordano, il nostro amico Giordano, per chi lo conosce, e Tommasone, che oltretutto ci tengo a dire che ieri ha fatto il terzo posto alla tappa a Lugano, è diventato campione italiano di handbike, e ce l'abbiamo proprio qua a Castiglione La Presolana, quindi un bravo Giordano. Anzi, faremo così visto che lo conosci, inviteremo sia lui sia te la prossima, perché mi pare che l'argomento qui sia oltremodo interessante, ma soprattutto un argomento che tende, come dicevi tu, a voler far capire, insomma, che handicap, per carità, disabilità, chiamiamola così, poi chiamiamola come volete, oggi si può superare, cioè c'è, e nessuno, l'hai detto tu, coca non andrò mai, però sicuramente in qualche modo potrò pensare di riuscire a fare qualcosa d'altro che può sostituire la gioia di andare da questa parte piuttosto che da un'altra. Assolutamente, dicevo che proprio che, grazie anche a Giordano, che lui è un atleta in handbike, io sono arrivato fino a Palermo in handbike, cioè mi sono sparato duemila chilometri insieme a altri amici da Polisportiva Isabel di Valcamonica, e quando me l'aveva presentato ho detto, ma mi avete visto? Io non potrò mai arrivare, e da lì ho detto, no, no, proviamoci, perché se non ci provi, hai perso in partenza, e quindi hai già perso, devi provarci, poi come va, va, però devi provarci prima. Signori, io credo questa sera, questa sera qui Mauro ci sta suggerendo, ripeto, forse anche un pochettino, ma questo viene soprattutto da queste persone, è una scuola di vita, una scuola, e soprattutto la voglia di affrontare quella che è la vita, quella che resta, nel bene e nel male, per loro magari un po' più grave, grave, o grama se preferite, che poi la vediamo noi così, perché magari per certi aspetti è più grama la nostra rispetto alla loro, però sicuramente con la voglia di affrontarla, ho detto, bellissimo quel gesto lì, ehi, ci sono anch'io, come dire, guardate che non sono assolutamente uno che non conta più niente, posso contare anch'io, un bel gesto, ne parliamo ancora fra poco, perché poi parleremo di questo sport everbody, che naturalmente ti sta coinvolgendo, e darai qualche consiglio, e soprattutto qualche suggerimento, a chi vorrà mettersi in contatto, come può fare, come non può fare, eventuali costi, se ci sono dei costi, eccetera, perché anche questo è un argomento che bisogna affrontare. Ancora fra due minuti di pubblicità, state lì. E rieccoci, rieccoci per la terza e conclusiva parte con Mauro Bernardi, Mauro Bernardi che ci sta suggerendo davvero, adesso senza peccare di retorica per carità, però ci sta suggerendo delle cose sulle quali noi tutti dobbiamo riflettere, e questo progetto, ne parlavamo poco fa, praticamente non è, perché ve lo sarete chiesti anche voi, ma quanti sono i disabili che possono attuare, possono praticare questo tipo di sport, che poi uno lo pratichi in maniera come fa lui, che è diventato addirittura maestro di sci, oppure che lo pratichi semplicemente perché deve essere un passatempo, deve essere anche, soprattutto una cosa ludica per farlo divertire, perché poi alla fin fine è per togliergli i pensieri, per togliere le cose e per farlo divertire. E a questa domanda poco fa mi ha chiesto, ma Mauro mi ha risposto, chiedo scusa, e mi ha detto, guarda che ce ne sono parecchi. Sì perché parlando proprio con l'assessore Brunetta, l'assessore allo sport di Albino, ci hanno guardato e detto, ma questo progetto lo facciamo fare a chi? Gli diamo la possibilità di praticare a chi gli sport? Beh, ci siamo guardati un attimo, un censimento non l'abbiamo ancora fatto, ma ci si è resi conto, abbiamo lanciato solo proprio due piccole esche, per dire, e sono aboccate tante cooperative, le cooperative che fanno lavorare i disabili, i disabili soprattutto quelli cognitivi, intellettivi e relazionali, che grazie a loro sono impegnati nell'arco della giornata, quindi viene fatto una sorta di sollievo alla famiglia, e sono impegnati in lavoratori, e molte volte veramente fanno di quei lavori stupendi, devo veramente riconoscere, però facendo di praticare sport ci sono dei costi di gestione, quindi c'è il personal trainer, c'è quello che deve allenare, c'è l'attrezzatura, c'è la struttura, e da lì abbiamo detto, aspettiamo un attimo, diamo la possibilità a questi disabili, che gli diamo un'ora il martedì, un'ora e mezza il martedì, un'ora e mezza il giovedì, due ore il venerdì, di provare a venire, ma a far cosa? Beh, a fare un po' di sport, lì faremo dei piccoli gruppi di lavoro, le prime riunioni saranno molto, i primi incontri in palestra saranno degli incontri conoscitivi, per capire e creare dei piccoli gruppi di lavoro, avremo, dicevo prima, avremo gente che veramente, dei disabili che hanno, abbiamo uno schizofrenico, abbiamo una persona malata psichica, molto grave, che è assistita, quindi ci sarà l'accompagnatore, e ci saranno comunque dei ragazzi invece autistici, e quindi apparentemente con niente da vedere, diciamo, alla vista con nessuna disabilità, ma che hanno bisogno di attenzioni e basta, in particolare ci saranno queste tipologie, queste dinamiche da gestire, faremo dei piccoli gruppi di lavoro, dove decideremo poi se aumentare poi l'utenza, e quindi creare, il martedì loro, il giovedì ce ne saranno degli altri, e capire, perché se il progetto sta partendo, come ci sono adesso le prospettive, che avremo 40 ragazzi, già inizia un po' a spaventarmi, nel senso buono, dico, caspita, ma c'era bisogno di questa cosa, e quindi... Io sono sicuro che il progetto non ti spaventa, perché la voglia tua è tanta, di mettersi in gioco personalmente, è chiaro che per te ci sono responsabilità, insomma, nel senso che avere, a parte il fatto che tanti saranno accompagnati, perché sicuramente non sarai solo a dover gestire un gruppo così, però avere questi ragazzi dalle problematiche diverse, uno con l'altro bisogna capirli, bisogna cercare di... Pertanto una scommessa ancora di più con te stesso, no? Sì, ma la vedo veramente che, devo dire una cosa che mi ha fatto crescere a me in questi anni, io la disabilità l'ho conosciuta quando ero piccolissimo, perché in questo condomino dove vivevo, a Cene, avevo una vicina di casa che era una down, una ragazza down, e io sono cresciuto con questa ragazza down vicino di casa, quindi entrava, sbatteva la porta, entrava in casa senza chiedere permesso, e sono cresciuto con questa, diciamo, pensiero che comunque era una persona come me, questa figura, sì, e da lì poi ho conosciuto, quando sono entrato in questo mondo, ho conosciuto un altro disabile, un altro down, che aveva una disabilità totalmente diversa, perché lui era stato integrato nella società normalmente, e Gabriele Rondi, lui vive la quotidianità, perché lo conosciamo, conoscono in molti, e quindi dico, caspita il Gabri, mi veniva con me, sciava con me, lui mi aiutava a portare il monosci, quando c'erano le scale, mi tirava su dalle scale, mi ha aiutato ancora, andavamo a mangiare insieme, eravamo io e lui, e quindi dico, si può gestire, sicuramente bisogna capire le dinamiche, e soprattutto le attenzioni di cui hanno bisogno, ogni persona, normodotato o disabile che sia, ha bisogno di attenzioni, bisogna solo capire di quale attenzione hanno bisogno, questo è la reputo una mia qualità, pecco un po' di arroganza, ma l'ho scoperto, lavorando con questi disabili, sicuramente non scoprirò la loro nocce, la loro essenza, ma mi renderò conto di cosa posso darli io, per renderli un po' più felici, e farli fare qualcosa con il divertimento, Allora non è peccare di presunzione, perché per carità ci può anche stare, perché tu sei passato, perché chi nasce, il ragazzo Down nasce Down, e si porta dietro il peso della sua disabilità per tutta la vita, tu hai vissuto 26 anni, se non ho fatto male, no 28 anni, 28 anni, normale mi dicevi, prendevi, cambiavi la macchina tutti gli anni, lo potevi fare, visto il lavoro che facevi, non ti mancava assolutamente niente, hai provato più o meno tutte le gioie della vita, che poi alla fin fine tante gioie si riducono nella semplicità, e a un certo punto ti sei trovato in un altro mondo, perciò sei riuscito a capire qual era l'importanza di vivere in un modo, e qual è adesso l'importanza comunque di vivere, e vivere bene, perché adesso stai capendo, pertanto sei quello più indicato a dire, a aiutare questi ragazzi ad affrontare quelli che sono i temi reali della loro vita, perché per loro sono i temi reali, quello che ce lo porta dietro dalla nascita, ecco il perché non è un peccare di presunzione, semmai una scommessa nel dire, nel cercare di capire, questo si comporta così, è meglio che lo facciamo giocare in questo modo, perché si diverti di più, piuttosto che un altro, è meglio che gli facciamo fare il basket in carrozzina, piuttosto che il tennis, o piuttosto che semplicemente palleggiare con il pallone, ecco, questo sarà il tuo compito, però, il tuo compito magari più impegnativo, però quando si va con entusiasmo, voi mi suggerite che la cosa riesce abbastanza bene, innanzitutto non abbiamo ancora detto, questo progetto si chiama Sport Everbody, e pertanto dunque è allargato un pochettino a tutti, e questo è già una cosa positiva, e poi, signori miei, l'ha detto lui, perché è una cosa, io l'ho stuzzicato prima proprio su questo, mi ha detto, guarda che tutto questo, quello che andremo a fare per questi ragazzi, siano 30, 40, perché poi se parte questo progetto, sei consapevole che può allargarsi anche ad altre situazioni, ad altri comuni, assolutamente, ecco, e ha detto, con l'aiuto del comune, ma io ho già la mia attrezzatura, che non è poco, perché l'attrezzatura la metto a disposizione, non costa niente a nessuno, questo è un fattore importante, soprattutto, perché tu sai benissimo, che se vai a chiedere ancora, alle famiglie, che già devono sostenere i costi, determinati costi, eccetera eccetera, gli dici, no vabbè costa 20 euro al mese, 50 euro al mese, diventa un altro problema, magari qualche d'uno dice, vabbè stai qua, gioca nel cortile, che gli risolvi il problema, e invece tu questo qua lo fai proprio per, per un tuo motivo, a spingere ad aiutare questi ragazzi, ad aiutare chi come te, ha avuto questo, ha avuto questi problemi. Diciamo che voglio dare la possibilità agli altri, ma mi è stata data, grazie alla mia situazione, che mi si è creata, e quindi la mia disabilità, essendo Inail, quindi ho avuto la possibilità di avere quello che mi serviva, quando mi serviva mi veniva dato, mi veniva fornito, quindi da la possibilità anche agli altri, che non sono Inail, ma hanno acquisito una disabilità in modo diverso, da un infortunio lavorativo, del dire, guarda, mi fa provare l'endbike, provo l'endbike, sicuramente, dopo averla usata a una stagione, si dovrà rendere conto, se lui avrà le potenzialità, dire, guarda che, parleremo con degli sponsor, e cercheremo di riuscire di ammortizzare la spesa, per comprarti anche la tua handbike, piuttosto che la carrozzina tennis, l'obiettivo non è metterli nelle squadre, questi ragazzi, in squadre agonistiche, ma se ci sarà comunque il potenziale, perché no, non possiamo tarpargli le ali, quindi se ci sarà la possibilità, sicuramente, si darà la possibilità, questa diventa proprio un'opportunità per provare dell'attrezzatura, avere delle persone specifiche e competenti che potranno spiegare come funziona, le varie tecniche per utilizzarle, e poi arrivare a praticare questa attività, diventerà la giornata dello sport, tutte le settimane, l'oretta di sport, va benissimo, diventerà un allenamento pre-sistico, piuttosto che pre-atletico, benvenga, diventerà un trampolino di lancio per diventare agonisti, perché no? Meglio ancora? Assolutamente. Così riescono, magari uno che ha nel proprio DNA, nonostante tutto, qualche cosa, può esprimerlo e chissà mai che possa aiutarlo a esprimersi in ogni caso a livello agonistico e togliersi quelle soddisfazioni che può ottenere. Allora, il progetto è interessantissimo, mi hai detto che il 2 di ottobre, giovedì, perciò dopo domani l'altro, praticamente alle 20.30 in comune verrà presentato questo progetto, giusto? Sì, al comune di Albino, giovedì ci sarà la presentazione del progetto, inizio già a dare due indicazioni, comunque ci si... Partirà il 14 di ottobre, si utilizzeranno due palestre, prevalentemente, il martedì, il giovedì e il venerdì, la palestra del Palazzetto dello Sport, quella piccolina sopra il Romero, diciamo, dove c'è l'Istituto Romero, e invece il venerdì da l'1 alle 3, dall'1 e mezza alle 3, si utilizzerà la palestra di Abbazia di Albino, che è in valle, comunque dopo ci saranno tutti i riferimenti. Lasciavo anche il mio numero di riferimento. Certo, se non hai problemi, assolutamente... Assolutamente no, quindi, chi volesse contattarmi, mi chiami al 339-399-599-3, e rispondo tranquillamente, se vedete che non risponde, perché o sto facendo qualcosa, o sto caricando la carrozzina in macchina, o la sto scaricando, o mi sto vestendo, comunque chiamerò, chi mi contatterà, o a un semplice SMS, se volete avere delle citazioni. Intanto comunque il 2 ottobre presenteremo il progetto, quindi se avrete qualche domanda un po' più tecnica, è meglio che magari venite direttamente lì, o ci incontreremo poi successivamente al 2 ottobre, e il 14 partiremo proprio per il primo giorno di attività. Bene, questo è quanto ci ha raccontato Mauro Bernardi, ci ha stupito, mi ha stupito, credo anche tanti di voi, saranno rimasti lì, con tanto di bocca aperta, nel sentire, e innanzitutto, la giovialità, come ho detto prima, la solarità di questo ragazzo, che da 9 anni, praticamente gli si è stravolta la vita, perché alla fin fine poi è cambiato tutto, insomma, sicuramente. Però ha saputo reagire, ha saputo far suo, quelle che sono le problematiche, ma soprattutto adesso, vuole che queste problematiche, che magari dentro di solo, perché non sarà mica stato facile, all'inizio anche per te sarà stata dura, vuole che gli altri, per certi aspetti, li possano superare, come le ha superate lui, ecco che vuole portare, a, diciamo così, a tutti, vuole portare anche, quelle motivazioni in più, per continuare a sperare, a vivere, per continuare ad essere, ci sono anch'io, ci sono anch'io, bellissimo gesto, bellissimo, mi ha fatto piacere, per chi, non avesse segnato il numero, per cui sto parlando, dei genitori, o magari qualcuno che mi aveva portato, contattate Antenna 2, Mauro lascia qui, il suo numero di telefono, gli verrà fornito, e pertanto, oppure, verrà fornito il mio numero, e saprò dare io tutte le indicazioni, certamente, comunque, noi siamo a disposizione, anche perché questo è un problema, è un problema che sta a cuore a tutti, è un problema, lo ripeto, io magari per primo, quando non ci tocca, lo affrontiamo, magari in maniera evasiva, però poi quando forse ci riflettiamo, su questi temi, e soprattutto su questi momenti, e soprattutto su quanto ci ha suggerito, questa sera Mauro, ci viene da dire, e se capitasse a me, sono pronto? Perché a lui è capitato, nove anni fa, è capitato nel fiorfiore dei suoi anni, se capitasse a me, io sono pronto a fare questo? Sono pronto a fare quest'altro? Sono pronto ad affrontare completamente una nuova vita? Questi punti che questa sera, ci hanno, e ci vogliono far riflettere, questo grazie a Mauro Bernardi, io ti ringrazio della tua cortesia, ci siamo conosciuti, avremo la possibilità di fare, vedremo, anche magari qualcosa assieme, e sarebbe davvero bello, intanto, una promessa questa, senti Tomasoni, e poi ci sentiremo io e te, magari fra due o tre o quattro lunedì, ospiti tutti e due qui a parlare, della sua bella medaglia di ieri, va bene? D'accordo. Grazie, grazie a Mauro Bernardi, grazie a voi, viva lo sport, grazie a voi e viva lo sport, grazie a te invece, ci fermiamo un attimo, la pausa pubblicitaria, e poi salutiamo il nostro ospite, nel frattempo, e facciamo accomodare Matteo Zanga, che è già arrivato, e che è un po' che aspetta di là, ma so che lui ha pazienza, l'ha fatto volentieri. grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,